Non ce l'ha fatta Leonardo Scarel, 21enne di Terzo di Aquileia, che martedì 11 giugno era stato vittima di un incidente stradale in via Caillou a Cervignano. La situazione era apparso subito critica al personale sanitario. Il ragazzo era stato trasportato d'urgenza in ospedale a Udine in codice rosso, non prima però di essere stato intubato sul posto. Dopo due giorni Leonardo si è arreso alle gravissime ferite. Riportate nella struttura di Udine, ora i medici stanno valutando l'espianto degli organi come da volontà del ragazzo deceduto che lascia la mamma Silvia, il papà Maurizio, gli zii, i cugini e i nonni. Proprio quei nonni dai quali stava tornando il giorno dell'incidente stava rientrando a Terzo di Aquileia, dove viveva attualmente con i genitori Leonardo Scarel, si era diplomato al nautico di Trieste e stava effettuando uno stage a Brescia in un'azienda produttrice di motori per aerei. Era stato anche un bravissimo ginnasta nella disciplina della ginnastica artistica, dove aveva vinto il campionato regionale ed era stato campione italiano al trofeo delle regioni. I carabinieri stanno continuando le loro indagini e pare che alla base della perdita del controllo del mezzo possa esserci stato proprio il maltempo, con l'improvviso temporale scoppiato e la scarsa visibilità creatasi in maniera repentina, che abbiano reso difficoltosa la guida della sua Fiat Punto, la quale ha terminato tragicamente la sua corsa contro un albero. In attesa dell'espianto degli organi non è stata ancora decisa una data per il funerale, quello che sarà l'ultimo saluto a Leonardo Scarel.